Ciao, io sono Anna, io sono Patrick, e abbiamo deciso di aprire questo canale per fare dei video tag, vlog, e quello che ci è la vita. Quello che facciamo quando siamo insieme. Stiamo insieme, abbiamo una relazione a distanza, io sto a Pisa, lei a Napoli. Io ho 21 anni, lei è 16, e? Come ci siamo incontrati? Ci siamo conosciuti per caso su Ask, che è un social, e successivamente su Facebook. Un po' con Skype, Whatsapp, abbiamo cominciato a vederci, a sentirci. E così siamo qui. Giusto, un anno fa. Sì, un anno fa preciso. Comunque, se avete qualche altra idea per qualche video, se la scrivete sotto, vi lo commento. E poi vi lasceremo anche il link di Facebook, Instagram e Twitter. Sì. Contattateci quindi. Allora, cosa possiamo dire? Sì, 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 sì. Aspettiamo le macchine. Allora, ci siamo messi insieme il 20 agosto. Il 2013. Sì, il 2013. E... E diciamo di media ci vediamo per 3-4 giorni al mese. Soltanto che nel mese di maggio non ci siamo. Ci siamo visti la prima volta il 18 settembre. Sì. E... Emozioni uniche. Ehm. Ancora adesso me ne ricordo come se fosse la prima volta. Ehm... Sempre sciammo le mani, ragazzi. Grazie. Sempre meno di te. Sì. Ehm. Ehm... Se vuoi sapere qualche altra cosa su di noi, fateci sapere. Fateci delle domande, magari vi rispondiamo. Anche su Ask. Vabbè, anche su Ask. E... Saremo contenti di ricevere... Dei vostri contatti. Ciao. 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 Ciao.